Buongiorno, sono Alessandro Zaccone del Lions Club Vigevano Host, presidente di quest'anno. Ci troviamo presso il convento dei frati Cappuccini di Vigevano per la benedizione di questo defibrillatore che il Lions Club Vigevano Host ha voluto contribuire insieme al Leo Club Vigevano a donare alla comunità vigevanese e in particolar modo ai frati Cappuccini. La raccolta fondi è avvenuta all'interno delle nostre attività con una cena e a questa ha contribuito tanto il nostro club quanto il Leo Club Vigevano. Siamo molto onorati di poter donare questo importante strumento che ci riavvicina in una tradizione consolidata con la comunità francescana vigevanese. Grazie